In occasione della giornata mondiale dell'epatite Asuji promuove tutta una serie di attività di prevenzione rispetto a questa malattia. Quali? Beh, innanzitutto Asuji porta avanti quello che è lo screening regionale dell'infezione da virus dell'epatite C. Esattamente come tutto il resto della legione abbiamo la possibilità di offrire gratuitamente l'esecuzione del test anti-HCV che ci permette poi di far emergere un sommerso decisamente pesante perché tantissime persone che sono affette dal virus dell'epatite C non sanno di averlo e viene offerto come da indicazioni nazionali in una fascia di età di soggetti nati dal 1969 al 1989. Asuji fa un passetto in più piccolo nel senso che offre l'opportunità di eseguire sia l'HBS-AG che l'anti-HCV, quindi andiamo a testare sia l'epatite B che l'epatite C in collaborazione con la struttura complessa Laboratori Riuniti e eseguendo il prelievo presso la nostra struttura la prossima settimana, prenotandosi fino a domani allo 040-399-2953, offriamo questa possibilità anche a soggetti al di fuori di questa fascia di età. Purtroppo riusciranno a poter fare questo tipo di prelievo solo una piccola parte di soggetti gratuitamente, però un piccolo contributo nostro lo vorremmo dare. Le patologie epatiche fondamentalmente sono dovute alle epatite virali, epatite B e C, l'alcol e più recentemente il fegato grasso, cioè praticamente quando uno ha un eccesso di grasso viscerale questo poi va a depositarsi nel fegato e causa un'infiammazione cronica che può portare poi a cirrosi e a cancro cirrosi, specialmente se il fegato grasso si associa poi a un abuso alcolico o addirittura se sottostante c'è un'epatite. Ma quali sono gli stili di vita di base che possono prevenire malattie croniche soprattutto per quanto riguarda la parte gastroenterica? Beh, insomma sappiamo che per le patologie gastroenteriche l'obesità, il diabete giocano un ruolo fondamentale perché causano, sono un fattore di rischio per la patologia del fegato grasso ma anche per il tumore al pancreas che è l'unico tumore che sta crescendo in incidenza e prevalenza, il tumore al colon e tanti altri tumori che poi sono non gastroenterologici dalla mammela alla prostata e gli stili di vita sono fondamentali, giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione di queste patologie quindi mangiare in maniera corretta, fare attività fisica, sia cardio che di resistenza, il sonno e naturalmente anche lo stress gioca un ruolo e viviamo in una società in cui c'è molto stress, molto di stress emozionale che attraverso alcune vie molecolari agisce nel promuovere queste patologie. Grazie